Il nuovo neoassessore all'ambiente al Verdi Milano, inizio questa ultima parte di EMOB, la giornata di martedì, con grande soddisfazione anche perché ieri e oggi abbiamo avuto anche una presenza online di parecchie persone, quindi vuol dire che il tema della mobilità elettrica in tutti i suoi aspetti è un tema che desta molto interesse. Poi il fatto che ci hanno un po' anche sdoganato, dandoci la possibilità di avere questa esposizione in Piazza del Duomo, devo ammettere che cominciamo veramente ad alzare un po' l'interesse anche rispetto ai cittadini. E questo interesse, questa cultura, dipende anche molto da chi in questi anni ha sviluppato un'azione fortissima di sensibilizzazione, di dissemination sui temi ambientali, che è la Feghete. Per cui io sono felice che Roberto Sposini, giornalista di LifeGate, presenterà un report sui dati raccolti sul settimo osservatorio nazionale sullo stile di vita sostenibile. LifeGate poi presenterà lui, ci ha fatto un po' crescere noi ambientalisti perché grazie a loro abbiamo veramente divulgato all'interno del territorio della Lombardia, soprattutto la Lombardia, un tema, quello della sostenibilità che ovviamente ormai sta diventando sempre di più un tema fondamentale. Grazie alla tua presenza Roberto, a te la parola. Ci siamo. Buongiorno a tutti intanto e grazie Camillo della presentazione, grazie anche dell'ospitalità in questo bellissimo evento. Quello che diceva è esattamente questo, allora LifeGate per chi non lo conoscesse brevissimamente è il punto di riferimento, quello che viene ritenuto il punto di riferimento sui temi della sostenibilità in Italia. Lo vedrete in diversi ambiti, direi tecnicamente tutti quelli che riguardano la nostra vita e credetemi i fondatori di LifeGate, la famiglia Roveda, quando nel 2000 decise di cominciare questa avventura, beh insomma, noi oggi ogni 5 minuti sentiamo nominare la parola sostenibilità e purtroppo non tutti gli diamo un senso concreto e compiuto, questo è il vero problema. Chi però come LifeGate racconta e dà significato e concretezza questa parola dal 2000 oggi ne raccoglie in qualche modo i vantaggi. Tra le tantissime iniziative di LifeGate c'è l'osservatorio nazionale sullo stile di vita sostenibile che è quello di cui vorrei parlarvi oggi. Perché abbiamo deciso di farlo qui? Perché la mobilità elettrica e la mobilità in genere, sia questa micromobilità, sia l'auto, sia il trasporto marittimo, sia il trasporto aereo, ecco tutta questa parte evidentemente passa anche dalle scelte delle persone, delle imprese. E quindi l'osservatorio nazionale fa proprio questo, io lo definisco sempre un viaggio straordinario in un'Italia che ogni anno cambia sempre di più, purtroppo mi manca alla spalla il professor Mannheimer che ai numeri della ricerca dà sempre un senso straordinario, molti di voi lo ricorderanno a porta a porta, accanto a Bruno Vespa, insomma è una persona che con i numeri, che dai numeri riesce veramente a trarre degli spunti incredibili. Io appunto privato del professor Mannheimer cercherò di fare del mio meglio e vi porterò da subito in questo viaggio. Intanto quello che vedete alle mie spalle è il campione, le persone che abbiamo intervistato e vi anticipo che quello che è emerso da questo settimo osservatorio è che ci sono 37 milioni di italiani che della sostenibilità sanno tantissimo e che chiedono alla nostra società, alle imprese, un cambiamento, un cambiamento radicale che come avete ben dimostrato in questi giorni può evidentemente riguardare la mobilità, ma che riguarderà come vedrete anche molti aspetti. Allora non mi soffermo su questa immagine, però vedete che il campione intervistato è abbastanza vario, c'è un panel un po' 50-50 tra uomini e donne, l'età la vedete con una preponderanza del 35, io non riesco neanche a leggere, 35-54, vedete il livello di istruzione e l'occupazione, ma io entrerei subito sui temi dell'osservatorio. Allora quello che ci piace sempre osservare è che davvero questa è un'Italia che sta di anno in anno crescendo sempre di più. Allora lo abbiamo visto rispetto, guardate, al 2015 quando abbiamo fatto il primo osservatorio c'è stata una crescita del 32%, cioè la parte di popolazione che ha fatto suo il significato di sostenibilità e gli ha dato quelle argomentazioni concrete che vedrete e cominciate a vedere dall'alimentazione è cresciuta, è cresciuta oltre del 30% e credete non è poco, noi che li abbiamo analizzati anno per anno, che abbiamo visto quest'Italia cambiare, c'è abbastanza rasserenato questo aspetto. Allora un commento veloce sull'alimentazione, intanto il 50% degli italiani conosce il significato di alimentazione sostenibile, molti di loro scelgono di limitare il consumo di carne, molti decidono per una scelta, per una dieta evidentemente più sostenibile, più legata ai temi vegetariani e poi c'è un incremento dell'agricoltura biologica. Un'altra cosa che lega, mi ricollego al tema dell'agricoltura biologica, sono sempre più le persone, e lo vedremo dopo, che quando vanno al supermercato e comprano dei, faccio l'esempio, dei pomodori che vengono da agricoltura biologica, cominciano a chiedersi non solo come siano stati coltivati, ma anche come siano arrivati sul banco del supermercato in cui li stiamo comprando. E qui, come potete immaginare, la mobilità, questa volta del trasporto pesante, che non so se è un tema che avete affrontato in questi giorni, ma evidentemente è un altro tema molto rilevante, che noi potremmo tranquillamente agganciare allo sviluppo dell'idrogeno, un idrogeno che noi ci immaginiamo verde, naturalmente, e che in futuro può essere certamente un tassello significativo della mobilità, soprattutto della mobilità a lungo raggio. Ed eccoci allora alla mobilità. Allora, il tema della mobilità, che è uno dei temi del sondaggio, indica che gli italiani, che il 49% degli italiani, sa dare un significato compiuto a mobilità sostenibile. Cioè, sa esattamente qual è il valore, ad esempio, della mobilità elettrica, di cui tanto si è parlato in questi giorni. Sa persino, anche se ci sono delle aree ancora così piuttosto scure, che fine faranno le batterie al fine vita e ancora prima di arrivare al fine vita, alla cosiddetta second life. So che ne avete parlato a lungo e ne sono felice perché anche la nostra community spessissimo ci chiede indicazioni su questo, vero? E noi abbiamo chiarito più volte che il tema delle batterie non è preoccupante in sé per sé, tanto piuttosto è interessante che le persone comincino a occuparsi dei temi etici, no? Che riguardano invece l'estrazione delle materie prime. Non tocco l'argomento perché è piuttosto complesso e anche un po' lungo, però non è privo di criticità e questo è un aspetto legato così alla sostenibilità della catena del valore che in prima o poi bisognerà risolvere. insomma speriamo di farcela a breve. Vedete l'8% degli italiani, no? Intanto scusate, vediamo intanto la preponderanza di persone che scelgono i mezzi di trasporto pubblico a minore impatto sono tantissime. L'auto elettrica anche lo vediamo, c'è anche la generazione Z che vedete indicata con un 5%, il 74% degli italiani chiede che il trasporto pubblico sia potenziato e che anche il car sharing che sappiamo ha avuto delle battute di arresto durante il lockdown, ne conosciamo anche le ragioni ma che a tendere tornerà certamente protagonista. Dato interessante secondo me che diverse persone siano disposte a spendere di più, lo vedete nella parte degli acquisti, quindi acquisterei un'auto elettrica anche se il prezzo fosse maggiore. Voi sapete che il prezzo maggiore oggi al netto degli incentivi che un po' vanno e un po' vengono e anche su questo bisognerebbe capire, ma insomma è un tema rilevante il prezzo di acquisto, molte persone desiderano un'auto elettrica e si fermano di fronte al prezzo. Ecco, l'osservatorio dice che molte persone sono disposte ad andare oltre. L'energia, quante volte abbiamo detto e lo riconduco alla mobilità elettrica che il cerchio perfetto è che un'auto elettrica sia ricaricata con energie e fonti rinnovabili. Lì c'è un tema legato evidentemente al mix energetico, ne parlavamo prima, l'Italia sta facendo grandi passi avanti anche da questo punto di vista e quindi il sogno evidentemente è quello che si chiuda il cerchio, che la scelta di un'auto elettrica sia anche poi frutto di un atteggiamento e di un comportamento coerenti anche sui temi delle rinnovabili. Lo vedete qui, il tema dell'energia rinnovabile è compreso dagli italiani per il 72% e l'87%, una percentuale molto alta, pensa che siano giusti gli investimenti statali nelle fonti di energia rinnovabile. Questo è un invito evidentemente al nostro governo a procedere col PNR, con il Green Deal, insomma con tutti quegli stimoli che dall'Italia e dall'Europa ci giungono per fare sempre meglio. Mode e design, questa è una parte che ci appartiene evidentemente, fa parte della nostra vita. Il 42% degli italiani è informato sull'esistenza della moda sostenibile, ne conosce anche una parte di valori. C'è un tema interessante, vedete il 40% è design sostenibile. Il design sostenibile nella logica dell'economia circolare riguarda molto anche l'industria dell'auto, pensate al remanufacturing, pensate a tutti quegli aspetti che stanno entrando sempre di più nell'auto. Guardate all'ultimo salone della mobilità e non dell'auto di Monaco, di Baviera, molti aziende hanno portato interessanti esempi di economia circolare, concept interamente costruite nella logica dell'economia circolare. Questo è una buona indicazione per il futuro, perché come penso sempre, il tema dell'elettrico, dell'ibrido, cioè del tipo di motorizzazione con cui mi muovo, è solamente la punta dell'iceberg. Tutto quello che l'industria dell'auto può fare si nasconde nelle trame dell'auto, è prima dell'auto che noi guideremo in strada, è dentro nei processi produttivi, è dentro in quell'ecodesign che ormai spinge i designer a costruire, a concepire un'auto pensata già, perché possa rivivere più di una volta alla fine della sua vita e possa già contenere molti elementi che vengono dal mondo della natura, ad esempio. La gestione dei risparmi, ecco questo è un tema di cui si parla poco e di cui però il 37% degli italiani sa. Con una prevalenza, vedete, il 59% della generazione Z. Molti conoscono e hanno investito parte dei propri risparmi in investimenti sostenibili. Insomma, anche questo è un tema, io adesso scorro velocemente, perché anche gli investimenti sono un tema, anche in questo caso, ricollegabili alla mobilità. Adesso guardate le aziende, è quello che vi dicevo prima, quei pomodori giunti con una filiera di cui le persone vorrebbero conoscere ogni dettaglio. I consumatori sono sempre più interessati all'impegno delle aziende e soprattutto a un impegno delle aziende che sia trasparente, che sia concreto, perché quella parola sostenibilità non sia fatta solamente di rapporti di sostenibilità fine a se stessi, che non raccontano niente o che magari non raccontano tutto. Allora, nella scelta di prodotti e servizi da acquistare, il 35% degli intervistati considera informazioni trasparenti come qualcosa di importante per l'azienda. La presenza di certificazioni sostenibili, evidentemente. L'adesione a progetti ambientali. Pensate ormai a quante aziende pensano o hanno pensato di compensare la propria impronta carbonica con dei progetti ambientali coerenti e reali. Quindi la compensazione delle emissioni è un tema molto sentito. L'uso responsabile delle risorse è quello che vi dicevo prima, cioè in quella catena di circolarità che tutti ospichiamo per il futuro anche l'industria dell'auto deve imparare ad avere un uso delle risorse più responsabili. Pensate ad esempio all'uso idrico, al dispendio idrico delle risorse idriche, però la costruzione di un'auto è davvero ingenta. Ecco, su questo sarà importante lavorare per il futuro. E adesso arriviamo a un tema che ci appartiene molto in questi giorni. voi sapete che a novembre parte la COP26, avrete visto gli attivisti del clima nei giorni precedenti proprio qui a Milano. I cambiamenti climatici sono uno dei temi su cui gli italiani sono più sensibili. Il 77% della popolazione italiana sa che cos'è il riscaldamento globale e soprattutto i giovani, quella generazione Z di cui parliamo molto spesso, in questo caso per l'85% dà molta importanza alla crisi climatica. Molti italiani conoscono il tema transizione ecologica evidentemente, molti conoscono le attività della COP26 e su questo mi riallaccio perché è appena finita invece a Pechino la seconda conferenza dell'ONU sui trasporti della mobilità. E guardate che anche da lì, e c'erano un centinaio di paesi a Pechino rappresentati, sono emerse delle cose abbastanza allarmanti. Certamente stiamo facendo molto, ma come ha detto Greta Thunberg a Milano, al nostro Presidente Draghi, e come hanno ribadito a Pechino, cento paesi provenienti da tutto il mondo, il tempo del bla 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 l'abbiamo capito, è finito. E quindi gli stimoli che vengono dalle istituzioni perché l'industria automobilistica faccia dei passi non devono essere percepiti come, no, oddio, che cosa faremo, diventerà complicato fare un'auto se ci mettono le Euro 7, non c'è dubbio, sarà così, molte cose dovranno cambiare, però è inevitabile perché quello che sta succedendo nel mondo è sotto gli occhi di tutti. Brevemente, questo invece è quello che ci ha lasciato il Covid, lo vedete, l'emergenza climatica, insieme all'emergenza climatica, il tema del Covid e dell'impatto è uno dei temi più rilevanti, l'aumento di acquisti online, lo sapete tutti, ha avuto un'impennata e questo ancora una volta è collegato alla mobilità e a come ho trasportato in giro per il pianeta tutti quei beni che noi tutti abbiamo acquistato dal divano di casa. Nei giorni scorsi, e sono felice di averlo sentito prima, il Comune di Milano ha dichiarato delle iniziative sul tema della mobilità, ad esempio dalla raccolta delle immondizie e dei rifiuti, insomma si stanno facendo dei grandi passi avanti, e beh insomma ce ne aspettano altri, però dai siamo felici che si stanno muovendo le cose. Guardate quel 79% che ha rilevato un aumento della povertà, è un tema che dovrebbe farci pensare ovviamente. Molte persone hanno preferito in questo periodo prodotti italiani e ancora hanno preferito acquistare prodotti italiani e sostenibili, molto spesso biologici. A mio avvio alla fine questo è quello che dicevamo all'inizio, e cioè chi sono, qual è questa parte d'Italia che ha risposto con i dati che vi ho appena raccontato. Intanto è il 75% della popolazione, stiamo parlando di 37 milioni di italiani, 75% che il professor Meinheimer indica sempre come coinvolti, sono soprattutto laureati, sono 18-34 anni, non amano molto consumare la carne e invece amano molto gli animali. Questa è l'Italia che sta cambiando più di un'altra cosa, poi rimane quel 25% che invece di sostenibilità non vuole sapere e come dice sempre Meinheimer non fa neanche la raccolta differenziata e su questo dobbiamo lavorare. Qui vedete l'ultima slide, dal 2015 ad oggi guardate l'incremento e quello che vi dicevo prima, l'Italia sta cambiando. Grazie a tutti. Grazie Roberto per questo spaccato importante che aiuta realmente anche i nostri lavori di EMOB in questo periodo. Tra altre cose adesso sono anche contentissimo di aver rivisto e faccio anche i complimenti perché appena vinto l'elezione a Varese, tu eri assessore grazie a te, anche a te e soprattutto perché Varese come con Torino, Bologna, Milano e Firenze sono stati i primi nel 2016 a firmare la carta metropolitana per la mobilità elettrica, quando nel 2016 erano forse parole un po' lasciate lì nel vento. Invece anche questa volta, anche quest'anno di EMOB, quelle parole dette nel 2016 di questi comuni qua stanno piano piano contaminando anche gli altri comuni. Dino, siamo arrivati a 150 comuni sopra i 20.000 abitanti, quindi rappresentano i 35 milioni di popolazione che hanno firmato la tua carta. E quindi abbiamo fatto veramente, siamo come un virus, abbiamo divulgato e soprattutto anche i temi. Prima parlava della questione cosa hanno detto ieri i due amministratori delegati delle società di Milano importanti, ATM e A2A. ATM ha riconfermato il fatto che dal 2030 a Milano non si gira più con mezzi pubblici endotermici. E Mazzuncini, spero che Roberto e Giulio non si mi arrabbiano, ha dichiarato che dal 2030 tutti i mezzi per la raccolta differenziata saranno raccolte differenzi elettrici. Io credo che questa scelta, e credo che anche tu Simone di noi hai fatto come scelta anche strategica, dimostrerà che prima di noi privati, anche le pubbliche amministrazioni dimostreranno che sulla mobilità elettrica il futuro non è là, è qui e ora. Quindi ti ringrazio della vostra presenza che poi ci racconterà anche un bel progetto che sta nascendo in questo periodo. Esattamente, grazie Camillo. Io ringrazio te perché nel 2016 io ne ho assessore all'ambiente, in realtà ci eravamo conosciuti ben prima, ma in realtà ci hai messo intorno a un tavolo quasi a forza e quindi alla fine noi piccoli e anche insignificanti da un certo punto di vista con questi grandi comuni abbiamo contribuito a quella carta. Questo quindi è il primo ringraziamento. Oggi vi parlo di un progetto, intanto vi parlo a nome del sindaco e io sono dimissionario in teoria ed ero in forse se venire fino a ieri sera e poi adesso invece posso venire a tutti gli effetti. Due temi si intrecciano sostanzialmente nel ragionamento che abbiamo fatto a Varese. Il tema della transizione energetica che vede nella mobilità elettrica uno dei pilastri fondanti, quindi su cui bisogna andare in maniera molto veloce e spedita, non domani ma adesso. E il secondo tema è quello dello sviluppo economico di un territorio che si riguarda e si rende conto che è sempre più deindustrializzato e sempre più da un certo punto di vista anche impoverito se non trova dei ragionamenti diversi e non si sofferma a pensare su che cosa vuole essere dopo la deindustrializzazione. Prima del Covid in realtà già nel 2018-2019 con Ausambrosetti, il nostro sindaco aveva cominciato un'interlocuzione che poi è continuata con confattigianato e il tema era quello di dire però attenzione sulla mobilità elettrica, il territorio di Varese, Novara, Como, dell'Alto Milanese in realtà dice tanto. Per le piccole e medie imprese non è vero che se ne sono andate. Le grandi le abbiamo perse nel nostro territorio, della Valle Olona, aree completamente dismesse, abbandonate purtroppo. Viceversa invece le piccole sono molto vive, soprattutto nella componentistica, soprattutto in tutto quello che è il tema della mobilità elettrica per quanto riguarda la produzione. E allora questa cosa ci ha fatto dire, insomma, parliamone. è venuto fuori questo progetto del Consiglio dei Ministri, la Presidenza del Consiglio, Italia City Branding, abbiamo detto vabbè perché no buttiamoci, cioè a questo punto prendiamo un pezzo di città deindustrializzato, abbandonato e diamoci come brand, come idea di fondo quella della sostenibilità e della mobilità sostenibile, cioè Varese che prende questo come suo punto di riferimento. Il bando l'abbiamo visto, quella è una parte dell'area industrializzata con una scuola che è anche questa abbandonata, perché poi purtroppo il territorio quando si impoverisce e viene abbandonato è quasi come un cancro, se non lo addestiamo in un qualche modo. E quindi quest'occasione di legare mobilità, sostenibilità e l'idea di futuro dell'accettare del nostro territorio si è sposato, insomma, e ha trovato un terreno fertile negli artigiani, nelle piccole e medie imprese, adesso parleremo con Camera di Commercio, io assolutamente voglio aprire adesso con questo nuovo mandato, abbiamo cinque anni anche fuori dal Covid, ci auguriamo di poter veramente aprire con EMOB, RSE, penso a tanti soggetti che in questi anni abbiamo incontrato, ma adesso forse è il momento di dire proviamoci, proviamoci a giocare questa carta, insomma. Ci stanno aiutando a Uson Bosetti, l'Università Yulm di Milano, Genia Torezzi adesso entrerà un pochino nello specifico, proprio qualche minuto vi chiediamo per questi ragionamenti che abbiamo fatto, noi arriveremo con l'inizio dell'anno prossimo a progettare, a questo caso proprio in maniera esecutiva, la riqualificazione di questo pezzo di città e di questa costruzione di un hub greenvarese, adesso sui brand sono più bravi quelli del Yulm, ma grazie al quale cerchiamo di ragionare sulla formazione di chi lavora nelle piccole e medie imprese del territorio e di chi forma degli imprenditori e così. Adesso lascio la parola all'ingegnere, a lei. Grazie mille, fisico ci tengo, gli ingegneri sono i nostri amici. Allora, quello che vi presentiamo in pochissimi minuti perché vogliamo rimanere all'interno del tempo che ci è stato assegnato e ringrazio molto Camillo Piazza, Giuseppe Mauri che sovrintende alla parte convenistica perché ci ha dato la possibilità di presentarvi più che un progetto, un metodo. La cosa interessante che l'architetto De Simone ha portato la vostra attenzione è la scelta di un'amministrazione pubblica di identificare un progetto di crescita di attrattività e di brand, perché il bando che finanzia questo progetto si chiamava Italia City Branding, abbinando il brand di una città al concetto di mobilità e di sostenibilità. Questa è una cosa che era esclusiva perché nessun altro progetto che era stato presentato, erano circa un centinaio i progetti che sono stati presentati per ricevere un finanziamento da questo bando, ne sono stati finanziati trenta e l'unico che ha un'attinenza così specifica sulla mobilità e sulla sostenibilità è quello di Varese. Che cosa si vuole fare a Varese? Si vuole realizzare un centro di ricerca e formazione all'interno del quale sviluppare progetti che riguardano la mobilità sostenibile e ovviamente con particolare riguardo a quella elettrica e perché è stato fatto questa scelta? Perché insieme a European House Ambrosetti si è andati a fare una esplorazione di quello che è il tessuto economico, di quello che è la realtà di un territorio che è un territorio che era caratterizzato da grandi presenze industriali, Whirlpool, tutta l'industria legata alla motoristica che agiva, industria di componentistica, realtà che adesso o stanno da un'altra parte o sono molto ridimensionate. Però rimane il tessuto produttivo che Ambrosetti è andato a intercettare e a cui ha chiesto ma dal vostro punto di vista realizzare su questo territorio un centro che si occupi di mobilità sostenibile ha un senso? Può essere utile? La risposta ovviamente è stata sì, sono stati fatti come vedete questionari quantitativi e delle interviste e i risultati sono che il tessuto produttivo chiede all'amministrazione pubblica in questo caso e ai soggetti che possono essere aggregatori, quindi le associazioni di categoria, di investire su questo tema. La ricerca che è stata presentata in precedenza da LifeGate in qualche modo conferma questo interesse, che è un interesse che nel caso delle piccole e medie imprese che oggi caratterizzano il tessuto produttivo della realtà varesina è anche quello della voglia di poter innovare, cose che però una piccola azienda difficilmente può fare da sola. E quindi quello che noi abbiamo chiamato Innova, che è appunto un hub come un aeroporto dove arrivano tanti aerei e da lì ripartono idee e progetti, è la risposta che l'amministrazione comunale insieme a Confartigianato, insieme alle associazioni di categoria, ha scelto di mettere in campo, devo dire con una certa lungimiranza. Non voglio allungare troppo la mia presentazione rispetto ai risultati che sono emersi dalla ricerca di Ambrosetti. Vedete che la realtà che è rimasta in questo momento sul tessuto di Varese è una realtà caratterizzata da davvero piccole e medie imprese, quindi con pochi dipendenti, con dei fatturati relativamente bassi, però queste sono imprese che a maggior ragione, non avendo la possibilità di finanziarsi autonomamente dei progetti di ricerca, chiedono e sono felici di poter cooperare con dei progetti che stanno leggermente sopra rispetto al loro livello di dimensione ed esserne parte. Perché? Perché hanno capito, e anche qui la ricerca di LifeGate ce lo confermava, che questo è un tema su cui provare non solo a ricostruire il brand di una città, ma anche a ricostruire un tessuto produttivo che ha bisogno di un nuovo rinascimento. Quindi vedete che la parte di ricerca è una parte molto richiesta e considerata molto strategica da parte delle PMI, così come la parte di formazione. Stiamo vivendo un periodo di grande cambiamento anche dal punto di vista delle professionalità e quindi la presenza di un hub come Sarai Innova in quel territorio che afferisce non solo alla provincia di Varese e alla città di Varese, ma anche alle province vicine, ai territori limitrifi, addirittura sconfinando verso il canton Ticino, è anche un'opportunità per fare formazione, per ridare professionalità magari a delle realtà, a dei soggetti che per un motivo per l'altro sono stati marginalizzati dal processo di sviluppo economico. È chiaro che transizione energetica, mobilità sostenibile e evoluzione digitale di tutta una serie di competenze che sono già presenti sul territorio ha, nello sviluppo e nello sbocco della mobilità sostenibile, uno dei suoi principali risultati. Cosa abbiamo fatto noi? Noi ci siamo occupati della parte di branding e anche questo, vi rubo 30 secondi non di più, è un metodo, è un modello di uscire a capire come un territorio possa riposizionare la propria attrattività, il proprio brand, esattamente come se fosse una casa automobilistica o un'azienda che vende biscotti o profumi, perché oggi i territori competono e competono su delle basi attrattive che sono quelle che fanno decidere a un imprenditore di andare a investire in quel territorio e banalmente anche a un cittadino di scegliere di vivere in un posto rispetto ad un altro. Il fatto che la città di Varese abbia deciso di identificare un suo riposizionamento a livello di brand e di attrattività, facendolo coincidere con i temi della mobilità e della sostenibilità, è sicuramente un elemento interessante che ci auguriamo possa essere ripreso e possa essere mutuato anche da altre realtà. Qui non entro nello specifico, è chiaro che stiamo parlando di un territorio che ha una vocazione industriale importante, soprattutto nella parte meridionale della provincia, quella che si affaccia verso Milano. Varese viene chiamata la città giardino. Con tutto il rispetto, non so chi di voi abita da quelle parti, forse Bustarsizio e Gallarate non sono esattamente dei giardini, ma perché stanno sull'asse del Sempione e stanno su una zona industrializzata che ha costruito il suo sviluppo con l'industria tessile in altri ambiti. Sicuramente Besozzo, Gavirate o Ispra sono molto più verdi e molto più giardino e quindi c'è un territorio che parla due linguaggi. La sostenibilità sicuramente ha la possibilità di mettere insieme questi linguaggi e di farli convivere, con chiaramente poi la necessità di essere in prima linea sul discorso della mobilità e della sostenibilità. L'amministrazione Galimberti, di cui Dino De Simone è stato esponente, ha ovviamente avviato un programma di investimenti e di progetti per rendere sostenibile la mobilità di una città che è un po' complicata perché non è Reggio Emilia e non è Ravenna, quindi girare in bicicletta varese significa forse riuscire ad avere la maglia a poire del Tour de France, perché bisogna avere una bella gamba per salire e scendere dalle salite. Però sicuramente è un tentativo che si può andare a realizzare. Chiudiamo dicendo che stiamo lavorando insieme ad attori che si occupano di ricerca e di formazione in questo ambito per andare a costruire questo bando che uscirà a metà del prossimo mese, sarà un bando di progettazione preliminare e che inizierà davvero a identificare quelli che saranno gli elementi caratteristici di questo centro di ricerca e formazione che abbiamo voluto chiamare innova. L'obiettivo è quello di poter uscire con un bando esecutivo intorno alla metà del 2022 e poi sperando che i tempi della burocrazia e i ritardi che di solito contraddistinguono la realizzazione di opere pubbliche in Italia qui siano molto più sostenibili e quindi ci consentano di arrivare più velocemente a poter aprire questo centro. Questo è il timesheet che ci siamo dati e con cui stiamo ragionando insieme all'amministrazione. Io ho concluso se l'assessore vuole aggiungere qualcosa per concludere. Grazie mille. Grazie. Grazie veramente di vero cuore anche perché ci siamo parlati neanche un mese fa. Quindi ci siamo appena conosciuti, a parte che ci conosciamo da anni, quindi la nostra comunità di EMOB mi piacerebbe essere a vostro fianco. Soprattutto perché stamattina abbiamo presentato questo accordo di programma sulla formazione e sulla riqualificazione che fa capo a forma per un ente pubblico e quindi come ente pubblico può ragionare subito con voi rispetto a questi temi. Chiedo scusa a Giuseppe Mauri per il ritardo, a te la parola. Ce ne andiamo.